Il Marina di Pescara è per il trentesimo anno consecutivo bandiera blu il vessillo assegnato dalla FE e continua a sventolare sul porto turistico del capoluogo adriatico, segno che al Marina di Pescara sono stati continuamente implementati sia i livelli di qualità dei servizi che le strategie di attenzione verso l'ambiente. Nel corso dell'ultimo quinquennio la gestione del Marina di Pescara è stata fortemente improntata ed ispirata dai problemi posti dalla necessità di coniugare la sostenibilità economico finanziaria del porto con il rispetto e la tutela di un ambiente come quello marino fortemente minacciato dal contesto geomorfologico e urbanistico circostante. In questo quadro, si legge nel comunicato del Marina di Pescara, si inseriscono in particolare tutti i più recenti interventi tesi ad armonizzare manutenzioni ed investimenti con misure ad impatto ambientale sempre decrescente. Di maggior rilievo l'installazione di un impianto di dissalazione e potabilizzazione il quale una volta entrato definitivamente in funzione consentirà al Marina di rendersi completamente autonomo rispetto alla rete idrica pubblica, notoriamente obsoleta e generatrice di sprechi e perdite. Ma il porto turistico di Pescara ha visto anche un altro importante intervento con la progressiva sostituzione degli impianti di illuminazione degli spazi esterni con lampade a led, la cui installazione ha prodotto un minor consumo di energia elettrica di oltre il 70% rispetto alle lampadine tradizionali. Altro importante presidio è costituito dall'implementazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle varie utenze del porto, grazie alla proficua collaborazione con Ambiente, l'azienda pubblica che si occupa del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Pescara. In più c'è stata l'installazione di ben due dispositivi Sea Bean, la cui funzione è quella di raccogliere i piccoli oggetti, in particolare le plastiche galleggianti, la cui presenza resta una delle maggiori minacce per l'ecosistema marino. Infine, conclude il comunicato del Marina di Pescara, all'interno del porto è attiva una ciclostazione per biciclette elettriche e una colonnina di ricarica rapida per le automobili sia plug-in che ibride, attivata in collaborazione con una delle più prestigiose case automobilistiche mondiali.